buonasera a tutti benvenuti sul mio canale io sono Mister Kamalim questa sera vi faccio vedere come si taglia il pilo al nostro porcellino indiano la necessità è dovuta affatto perché adesso comincia a far caldo e questi qua sono animali che soffrono poco cioè non soffrono bene comunque non sono abituato alla nostra temperatura quindi è necessario tagliargli il pilo allora una tecnica è quella che nuovamente si usa dal barbiere prende la misura con le dita per ridurre lo stress gli diamo cosa mangiare davanti una cassina vodice pettinina grazie a tutti 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 grazie a tutti